Ma lo sai che cosa ti dico? Quasi quasi, guarda qua che faccio. Questo qua, sta qua che deve comprare l'amico, vedi? Sicuro sta qua col camion. Aspetta, vado a ceder una cosa, aspetta qua qua. Ok, ok, perfetto. Ok, perfetto, ma c'è questo. Guarda, vado a ceder una cosa qua, sicuro sta da sotto. Dove comprare il compagno. Ci deve un grande pezzo, guarda che cosa c'è un bello, guarda, 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 guarda. Vedi, se ne pezzò la questo, stava cercando un po' su una, come lo ricompagno. Ya, ya. Oh, eccolo, 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 eccolo. Vado, 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 vado. Ahi. 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 Oh, I'm not that. Ah, ma, 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 no, 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 no. Ok. Passo guidare i. Ah, mamamia. Oh, ispira il, ispira il tutto. Ahi. Oh, ispira il camion. Eccolo lì. No, vado, vado, in colo. Scu' sticano. Ahi. sii ha buon'altro capito? oh, non vai aaaaaah sii no no ma porca miseria oh, ma che caspita che sfortuna ehi, ha buon'altro ma non ti ho visto ma non ti ho fai cazzo tu ah ah